Secca cinquina della capolista stilese nei confronti dell'ultimo in classifica, quella Monasterace che per ironia della sorte giocava proprio nella partita tra le mure amiche, anche se come calendario della squadra di casa era la Stilese che come sappiamo tutti gioca queste partite a Monasterace per l'impossibilità di adoperare il proprio campo. Comunque dicevamo una secca cinquina e anche da sottolineare la quaterna del suo bomber Martinez che nello spazio di pochi minuti nel secondo tempo è riuscito ad arrotondare quel punteggio che peraltro si era fermato sull'1-0 nel primo tempo per il gol di Papaleo alla sesto minuto. Poi nella seconda parte alla cinquantasesima, al sessantacinquesimo, all'ottantatresimo e al novantesimo dicevamo ci pensava il bomber della squadra di casa a completare la cinquina. E la Stilese approfitta anche della sconfitta del gioioso Ioni che ha fermato a Bagnara per allungare in classifica e apportare a sette i punti di vantaggio appunto sulla seconda. E se questo non significa vittorie del campionato certamente poco ci manca.